Ciao a tutti e bentornati sul mio canale AmanteGDT. Quest'oggi vi andrò a presentare il tutorial di Dorf Romantic The Duel, la versione, la variante del gioco Dorf Romantic per due giocatori. In questo gioco andremo tramite il posizionamento di tessere a creare il nostro paesaggio, il nostro territorio cercando di completare più obiettivi possibili e ottenere dunque il maggior numero di punti ed essere i vincitori della partita. Vi ricordo che se foste interessati all'acquisto di questo o altri giochi da tavolo io vi consiglio il mio store di fiducia LSGiochi e non dimenticatevi di inserire il mio codice promozionale AMANTE10 per ottenere il 10% di sconto. Adesso però andiamo a vedere insieme questo video tutorial. Vediamo il setup di gioco. Come prima cosa i due giocatori decideranno con quale colore andare a giocare. Abbiamo il blu e il rosso. A questo punto uno dei due giocatori prenderà le tessere paesaggio che sono quelle rappresentate da questo mulino e le tessere obiettivo rappresentate invece da questo fumetto. Le andrà a dividere, le mischierà separatamente, dopodiché andrà a formare una pila per quanto riguarda le tessere paesaggio, io ora per questione di altezza ne ho formate due, e una pila di tessere obiettivo. Poi questo giocatore andrà a prendere i 24 segnalini obiettivo, le andrà a mescolare per tipo, dopodiché andrà a formare una pila per ogni tipo di segnalino obiettivo. Durante questa fase di setup del giocatore blu, l'altro giocatore, il giocatore rosso, andrà a disporre tutte quante le sue tessere paesaggio e le tessere obiettivo, ovviamente in maniera separata, le andrà a disporre tutte quante scoperte. Ora io per questione di spazio ho fatto delle piccole pile in maniera da trovare più facilmente le tessere, ma se avessimo appunto più spazio a disposizione conviene proprio metterle tutte quante scoperte una per una. Stessa cosa andrà a fare con i segnalini obiettivo. Quando il giocatore blu andrà a preparare le sue tessere paesaggio, andrà a toglierne tre in maniera casuale, questo per dare variabilità al gioco, in quanto non si saprà mai quali tre tessere non ci saranno durante la partita. A questo punto, per quanto riguarda il setup del gioco base, abbiamo terminato. Ci sono però due moduli all'interno della scatola che possiamo inserire separatamente oppure insieme per creare delle varianti al gioco. In questo tutorial vi andrò a mostrare solo il gioco base, ma nel caso in cui dovessi raggiungere un milione di visualizzazioni vi andrò a mostrare anche i moduli. Ovviamente sto scherzando. Vediamo dunque come si svolge una partita. Partendo dal giocatore, in questo caso blu, quello che ha le tessere scoperte, andrà a posizionare durante la partita alternerà il posizionamento di tessere paesaggio oppure tessere obiettivo. Vi farò vedere ovviamente questo come accade. All'inizio della partita andremo a posizionare le prime tre tessere tutte e tre obiettivo. Infatti durante una partita dobbiamo trovarci sempre con almeno tre obiettivi da fare per tutti e due i giocatori. Quindi nel caso in cui un giocatore dovesse avere meno di tre obiettivi disponibili, quindi da poter completare sul suo paesaggio, dobbiamo subito andare a prendere in quel caso poi una tessera obiettivo e non paesaggio. Ma vediamo appunto come si svolge il gioco. Allora come detto andremo a prendere per primo tre tessere obiettivo. Le possiamo mettere un attimo visibili perché poi le possiamo disporre come vogliamo in maniera che dopo che le abbiamo prese andrà a cercarle anche l'altro giocatore, il giocatore rosso, e dovrà prendere le stesse identiche tessere. Quindi in questo caso questa qui, questa qui e questa qui. Ok? A questo punto i due giocatori sceglieranno, ovviamente senza guardarsi in maniera da non creare lo stesso paesaggio, andranno a decidere come posizionare queste tessere. Ci sono ovviamente delle regole di piazzamento che vi andrò a spiegare subito dopo. Cosa dobbiamo fare comunque? Sopra a queste tessere obiettivo dobbiamo andare a mettere i segnalini obiettivo. Come vediamo da questi scoperti, i segnalini obiettivi ce n'è quattro per ogni tipo di tessera e tre solo per questi obiettivi che sono degli obiettivi doppi. Ve li spiegherò poi dopo. Quindi in questo caso quelli gialli qui per il grano e vanno dal 3 al 6. Sono praticamente i punti che ci andranno a dare nel caso di completamento e inoltre sono il numero di tessere di quel tipo che dobbiamo avere, che dobbiamo creare all'interno del nostro paesaggio per poter fare quell'obiettivo. Quindi per esempio ho preso questa del grano, il giocatore che ha le tessere scoperte va a prendere i segnalini in questo caso, il segnalino in questo caso è un segnalino 4 e lo va a posizionare su questa tessera. Quindi stessa cosa farà l'altro giocatore, andrà a posizionare il 4 qui. Per quanto riguarda qui ora la foresta, andrà a prendere un segnalino e il 5, quindi anche questo giocatore metterà il 5 e per quanto riguarda le case, il villaggio, in questo caso il 6 e quindi questo giocatore qui metterà il 6. A questo punto con le regole di piazzamento andiamo a mettere, a posizionare queste prime tessere. Le regole di posizionamento come sono? Sono molto semplici, ovviamente iniziamo a posizionare la prima, dopodiché dobbiamo sempre posizionare le altre tessere adiacenti almeno a un lato delle tessere che abbiamo già posizionato. Quindi ovviamente non mi posso andare a posizionare qui con un angolo. Deve esserci sempre un lato intero che tocchi un'altra tessera. Per quanto riguarda i vari paesaggi, quindi per esempio le case, la foresta, il grano, non devo necessariamente collegare questi tipi di paesaggi tra loro, quindi non necessariamente dovrò andare a mettere il grano qui, ma questo potrei anche metterlo così. Quindi possono tranquillamente non combaciare. Le uniche obbligatorie che devono combaciare sono le strade e i fiumi. Vi vado a fare subito degli esempi per quanto riguarda appunto le strade e i fiumi. Allora, quando io vado a posizionare una tessera dove c'è una strada, queste sono le uniche che non posso andare a bloccare. Quindi in questo caso io non posso posizionarla così, in quanto la strada, come possiamo vedere, va a sbattere contro un altro tipo di paesaggio. Quindi, per esempio, io potrei posizionare questa così, tranquillamente perché la strada è aperta, e successivamente, ovviamente, collegare tessere in questa maniera, che la strada sia continua. Posso tranquillamente anche fare più strade, quindi aprire altre strade. L'importante è, come detto, che non si vanno a chiudere. In questo caso, vedete, c'è anche un fiume, non potrei andarlo a mettere così, perché in questo caso il fiume va a chiudersi su una tessera. Quindi potrei andare a mettere questa tessera, per esempio, così, perché come possiamo vedere la strada continua e il fiume fa la sua strada. Quindi successivamente poi posso continuare il fiume tranquillamente, in questa maniera. Queste sono le uniche regole di piazzamento. Ma torniamo ora all'esempio della nostra partita in corso. Come detto, le prime tre tessere che sarebbero state posizionate sono queste tessere obiettivo. Stessa cosa, quindi, faceva l'altro giocatore posizionandole come meglio riteneva opportuno. E a quel punto, siccome tutti e tre i giocatori hanno tre obiettivi sopra, passiamo alle tessere paesaggio. Quindi il giocatore blu andrà a prendere una tessera paesaggio. Stessa cosa farà il giocatore rosso prendendo la tessera paesaggio identica e le posizioneranno nel loro paesaggio. Cosa dobbiamo cercare di fare? Ovviamente dovremo cercare di completare questi obiettivi che man mano andremo a posizionare sul nostro paesaggio. Per esempio, questo ora, il 4 del grano, cosa vuole dire? Che dovremo creare un paesaggio con quattro tessere grano che siano adiacenti, quindi che combacino tra loro. Per esempio, se io dovessi fare in questo caso così, come possiamo vedere ho 1, 2, 3, 4 tessere che formano appunto questo obiettivo, vado a togliere questa tesserina e la posizione di fronte a me servirà ovviamente per il conteggio dei punti finali. Sono quattro punti che andrò a ottenere. E come vi avevo accennato precedentemente, ogni volta che uno dei due giocatori si trova con meno di tre obiettivi, allora a quel punto nel turno successivo si andrà a prendere una tessera obiettivo e non una paesaggio, in maniera da far sì che ci siano sempre almeno tre obiettivi per uno dei due giocatori. Per quanto riguarda gli obiettivi, li abbiamo di sette tipi. Allora, come possiamo vedere, come abbiamo visto, il primo è questo giallo che riguarda il grano, quindi dovremmo andare a cercare di creare un territorio con quel numero di tessere di grano. Poi abbiamo questo qui marroncino con la strada o ferrovia, questo verde che sono il territorio della foresta, quindi questo con gli alberi, questo rosso che sono quelle delle casette, quindi del villaggio. Abbiamo poi ancora questo azzurro che riguarda ovviamente il fiume. Questo nero che invece è un obiettivo particolare in quanto io l'ho tradotto con obiettivo circondare. Cosa vuol dire? Che in questo caso, quando capiterà questo tipo di obiettivo, ora per esempio lo metto qui, quando capita questo tipo di obiettivo nero, dobbiamo semplicemente non creare quel tipo di territorio, di terreno attorno alle altre tessere, ma semplicemente quella tessera deve essere circondata dal numero che c'è sopra il segnalino obiettivo. Cosa vuol dire? Che in questo caso abbiamo tre, una, due, toccano due tessere. Dobbiamo fare in modo che attorno a questa tessera ci siano tre tessere che appunto combaciano, che quindi sono adiacenti a questa tessera qui. In questo caso, da tre, uno, due, tre, questo obiettivo sono riuscito a soddisfarlo. E l'ultimo tipo di obiettivo che ho a disposizione sono gli obiettivi doppi. In questo caso, come possiamo vedere, hanno due colori. Cosa vuol dire? Che io devo creare ovviamente il territorio di sei caselle, cioè di sei tessere, con quel colore. In questo caso doppio, quindi o il giallo o il rosso, o il grano, oppure il villaggio e le casette. Quindi appena riesco a creare quel territorio da sei casette oppure sei grano, io soddisfo questo obiettivo. Praticamente è un obiettivo che mi dà una doppia possibilità di soddisfarlo. Attenzione però perché quando andiamo a posizionare delle tessere obiettivo, quindi con degli obiettivi sopra, ci sono delle regole da rispettare. Una di queste è che non possiamo mai posizionare una tessera obiettivo se ci troviamo già in una situazione in cui attorno, praticamente adiacenti a quella tessera che andiamo a posizionare, ci sono più tessere dell'obiettivo che stiamo posizionando. Quindi se faccio un esempio, qui andavo a posizionare questa tessera e magari già collegata ad essa avevo altre sei tessere con il villaggio, quindi con le case e questa che andavo a posizionare era la settima, non l'avrei potuta posizionare perché sono già oltre l'obiettivo che sarei dovuto andare a fare. Inoltre non posso mai andare a chiudere un territorio se in quel territorio c'è un obiettivo che ha un numero maggiore rispetto a quello che andrei a chiudere. Questo vi faccio un esempio. Come possiamo vedere qui ora rispetto al disegno, quindi ai vari territori, questa tessera qui villaggio l'andrei a chiudere perché non ha un bordo aperto. Vedete se io la posiziono per esempio così, ora non mi combacia, così, ok? In questo caso è aperta perché come possiamo vedere posso espandermi ancora da questa parte. Quindi se c'è questo obiettivo da sei, ok questa può essere posizionata così. Ma nel caso in cui io avessi avuto questa situazione e posizionavo questa tessera obiettivo, togliamo queste, facciamo finta che non c'erano, e vado a posizionare questa, chiudo praticamente il villaggio. Non ho possibilità più di espanderlo e quindi di fare questo obiettivo. Ovviamente quindi questa mossa non mi sarebbe consentita. Mentre invece, nell'esempio che avevo fatto prima, che non posso andare a posizionare una tessera obiettivo se già ho più tessere collegate che quindi rispetto al numero dell'obiettivo, come avevo già accennato, magari ho già sette tessere o sei con la casetta, quella che vado a collegare la settima o l'ottava e così via, posso però ovviamente andare a collegare tessere invece e paesaggio che mi vanno a superare poi il numero dell'obiettivo. Quindi per esempio magari sono staccate qui in mezzo, però non ho l'obiettivo, io ora ovviamente non c'è qui ma faccio un esempio. Andando a mettere magari una tessera qui in mezzo, io vado a far sì che c'è un villaggio che si va a unire un villaggio formandolo da sette tessere. Cosa succede però in quel caso? L'obiettivo non viene fatto e questo segnalino obiettivo viene scartato, quindi rimesso nella scatola. In questa maniera dunque lo perderei. Questo va a significare che gli obiettivi devono sempre essere risolti per il numero esatto del segnalino obiettivo. E ultima regola per quanto riguarda il completamento degli obiettivi, che ovviamente nel caso in cui dovesse andare a piazzare una tessera che mi va a completare più di un obiettivo, ovviamente questo si può tranquillamente fare, quindi in quel caso vado a prendere i relativi segnalini obiettivo. E gli ultimi tipi di tessere che possiamo trovare all'interno delle tessere paesaggio sono queste con la bandierina. Cosa vuol dire? Questi sono chiamiamoli così obiettivi supplementari in cui non andremo a mettere alcun segnalino ma ci permetteranno di fare punti. In che maniera? In questo caso dovrò andare a creare un territorio, in questo caso giallo quindi di grano, chiuso per cui non dovrà avere bordi aperti e in base a quanto grande lo andrò a fare andrò a prendere quel numero di punti. Quindi se sarà composto di 5 tessere andrò a prendere 5 tessere, 5 punti chiedo scusa. L'importante è che come detto sia un territorio che deve essere chiuso. Quindi per esempio facciamo così, 1, 2, 3, vediamo ora di chiuderlo in maniera che vi mostro l'esempio. Ok, se fosse così, in questo caso a fine partita sarebbe di 1, 2, 3, 4, 5 tessere perché come possiamo vedere non ha alcun bordo chiuso, quindi questa bandierina mi darebbe 5 punti vittoria. All'interno delle tessere paesaggio troviamo due bandierine per quanto riguarda i tre colori giallo, verde e rosso, quindi il grano, la foresta e il villaggio, le casette. Queste dunque sono le semplici regole di come si svolge questo gioco. Vediamo quando si, quando terminerà la partita. La partita terminerà quando non avremo più a disposizione tessere paesaggio, quindi avremo terminato, in questo caso io ne ho fatte due, due pile. Durante la partita è bene sapere che si potrebbero andare a finire le tessere obiettivo ma in quel caso si continua a giocare anche se un giocatore ha meno di tre obiettivi. Il gioco appunto, come ho detto, termina solo ed esclusivamente quando non abbiamo più tessere paesaggio da rimpiazzare. Terminata la partita andremo a prendere il taccuino segnapunti in maniera da non dimenticarci nessun punto da segnare e ovviamente andremo a segnare tutti i segnalini obiettivo che abbiamo completato, quindi la somma dei vari segnalini che abbiamo raccolto, foresta, grano, villaggio, binario, fiume, circondare e segnalini doppi. Inoltre andremo a segnare eventuali obiettivi bandierina di quanto abbiamo chiuso quei territori e andremo a segnare ancora il nostro binario più lungo e il nostro fiume più lungo. A quel punto andremo a segnare il totale e chi ha totalizzato il maggior numero di punti è il vincitore. Questa parte bassa qui invece riguarda i moduli. E siamo giunti al termine di questo video tutorial. Spero di avervi aiutato a conoscere e a capire le regole di questo gioco in maniera da poter decidere se può fare o meno al caso vostro. Vi ringrazio di cuore per aver guardato questo mio video e auguro a tutti buon gioco!